Ragazzuoli sono felicissima di annunciarvi la mia seconda mappa su Fortnite e questa ragazzi è una mappa 1 contro 1 build fight. Ebbene sì ragazzi, abbiamo creato una mappa 1v1 davvero eccezionale perché all'interno troverete tutto quello che vi occorre per avere una mappa completa e perfetta. All'interno ragazzi troverete un sistema di ranking che parte da bronzo fino al rank massimo che è la real con ovviamente una leaderboard che verrà aggiornata ogni mese e coloro che faranno parte della leaderboard ovviamente vinceranno dei premi. In più troverete sia un tabellone con le armi vecchie ma anche un tabellone con tutte le armi nuove del capitolo 5 con ovviamente di fianco il tavolo da lavoro per andare a cambiare tutti gli accessori nelle armi del capitolo 5. In più trovate due selettori di HP perché potete decidere se fare 1v1 o con 200 di vita o con 180 HP. A seguire invece ci sono 4 cieli tutti customizzati ragazzi ve lo giuro uno più bello dell'altro per modificare il design della mappa come meglio preferite e avete 4 design il cielo classico di Fortnite a seguire ci sta il cielo più serale con tutte le stelline molto rilassante come terzo cielo invece trovate un cielo più rosaceo sul viola che è veramente ragazzi bellissimo e a concludere trovate un cielo che rispecchia i miei colori preferiti quindi un cielo più cupo tutto rosso con delle sfumature nere. In più trovate Faretta la mia gattina che sarà sempre lei che vi darà l'esperienza e nell'angolino trovate la cabina per cambiare le skin però come vedete non è la cabina standard ma è una cabina tutta customizzata che è veramente bellissima. c'è anche un easter egg scopritelo voi. Inoltre su questa parete troverete anche il counter delle kill delle persone che sono all'interno della mappa e ovviamente ragazzi la cosa più importante è il sistema di anti griff. Cosa vuol dire? Significa ragazzi che le persone quando entrano nella mappa non potranno in nessun modo spararvi, darvi fastidio o uccidervi senza un motivo. Questo appunto per proteggervi ed evitare che le persone possano farvi droppare di rank inutilmente. Ciò vuol dire ragazzi che nel momento in cui lo sconto inizierà ufficialmente e che quindi questa parete arancione calerà ufficialmente allora da quel momento in poi voi potete spararvi. Qui vi aspetto in live in questo momento su twitch per andare a giocare insieme a voi quindi potete sfidare me e anche i miei fan. In più andiamo anche a rankare quindi non mancate perché ci daremo le grandi botte. Vi aspetto. Ma devo andare da griffins. Ho solo un obiettivo pompa di griffin che in realtà mi fa c***are però. No, frate, ma che vuole questo. Fa stanna fa griffin, cioè non te lo vorrei dire. Penso, ti sei perso tu griffin e me lo so perso anche io per te. DG. Ok. Quello là è bravo comunque. Ok. Medi più. Sì Sì dicevi scusami non ho capito Ci sta che hai voluto fare il test Però ho capito non funziona contro Martina Non funziona Non funziona Perché mi pare a prendere il muro quando basta semplicemente che spray sul muro Sì Aaaaaaah! 200 e lo so e lo so succede nella vita finestre la 200 e lo so Grazie a tutti No, bro, dove cazzo sei? Ma come cosa è scappato, ragazzi? The fuck am I watching? Ma è scappato con l'inunciacu? Non ho capito No, no, no No, no 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 Che pre-fire, mamma mia Potessi scarmi, ti giuro, l'avrei già fatto No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seconda win di oggi con 5 medaglioni. 5 medaglioni ancora una volta. Si gode porco zio. Si gode porco zio. Grazie a tutti.